Indicazioni sulla consistenza delle cose e dei concetti che si attribuiscono alle cose. Uno, se si dice zzzzzz, non è detto che ci sia qualcuno che dorma o una zanzara che disturbi il sonno di quel qualcuno che non è detto che dorma. No. Se si dice top, top, non è detto che ci sia qualcuno che bussa la porta o che quel qualcuno venga toccato dall'improvvisa apertura della porta alla quale non è detto che abbia bussato. Tre. Se si dice Zack, non è detto che ci sia Nanni che taglia in due il due o che il due si presti ad essere tagliato da un qualsiasi Nanni che spettola le forbici. Quattro. Se si dice Plimplon, non è detto che ci sia un cinese che suona una chitarra o che il suono, che non è detto che sia tradotto da un cinese che suona una chitarra, non assomigli al suono della pioggia che cade su una lamiera di ferro. Grazie. Buonasera. Grazie.